Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti e bentornati nel mio canale come vi ho detto poco fa nel video dei miei regali di Natale questo è il video dei finiti di ottobre, novembre, ottobre, novembre e dicembre quindi gli ultimi tre mesi se riesco lo edito e lo mando online sul mio canale youtube subito perché come vi ho detto poco fa domani vengo ricoverata per indurmi il parto sperando che vada tutto bene come vi ho appena detto e basta perché non penso che quando torneremo a casa avrò tempo per fare video e cose del genere scusate allora adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo finito abbiamo finito questi fazzoletti quattro veli della carta calla erano 80 fazzoletti, quattro veli presi al Tigota in offerta da un po' che non faccio più un ordine online o che vado proprio nel negozio fisico del Tigota e appena posso vado di... penso proprio di riprenderle ma appena posso poi il mio compagno ha finito della B-Man questo è deodorante per uomo al vetivè, sperando che riuscite a vedere deodorante per uomo freschezza totale vetivè 150 ml preso all'MD è buono, profumo molto delicato, a lui piace e sta usando un altro poi io ho terminato questi salva-slip della free no, saldella velluto salva-slip max esteso 20 salva-slip presi al di più mi piacciono mi piacciono, adesso ne sto utilizzando degli altri che fanno leggermente schifo quindi penso di riprenderli questi qua poi io ho terminato della Garnier Fructis questo shampoo anti-forfora complemento anti-caduta shampoo fortificante libera dalla forfora, acidi, sali, cilico e caffeina 250 ml 12 mesi lo usavo quando, cioè, era in doccia mi piace, lava bene i capelli li tiene molto profumati e puliti a lungo ed effettivamente fa sparire la forfora mi piace, penso di riprenderlo appena terminerò quello che sto utilizzando adesso i prodotti non sono tantissimi, però ve li volevo far vedere prima chi sa come la troppa roba poi, finito, un altro se siete durati, buonanotte doccia shampoo della Vidal questo qui ha Energy Sport, Ritalizzo Regenera Ginseng e Guaranà 300 ml con 12 mesi di scadenza dall'apertura è uno doccia shampoo che utilizza il mio compagno sotto la doccia io lo utilizzo solo come doccia non come shampoo perché utilizzo altre cose il profumo è buono e ne stiamo utilizzando un altro sempre della Vidal sempre packaging nero perché al mio compagno piace ma però quando finiremo quello là utilizzeremo un altro perché ne abbiamo poi bischetti non bischetti bastoncini cotonati della Bib 200 pezzi sì dei semplici bischetti cotonati non li ho di che poi io ho terminato strano ma vero un profumo dell'Avon e nello specifico il Persive erano 30 ml erano un ed un ed parfum 30 ml l'ho finito ieri o l'altro ieri mi è piaciuto tanto il profumo rimaneva lungo buono davvero molto molto buono adesso ne ho altri da utilizzare e da terminare questo sono molto orgogliosa di me stessa perché è la prima volta che riesco a finire un profumo poi biodorante roll on neutral roberts delicato extra protezione 24 ore in stick 40 ml 36 mesi proprio finito mi è piaciuto non mi irritava la pelle dopo neanche che mi ero depilata adesso ne sto utilizzando un altro di un altro tipo cioè sempre sempre roll on però il macchio non è neutral roberts poi della in win terminato sapone liquido con glicerina vegetale neutro 500 ml 12 mesi con la con la pompetta mi piace lava bene le mani ottimo profumo ne prenderemo sicuramente un altro poi ho terminato della montageness questa maschera per una sola applicazione è la seconda di due con rosa damaschina e olio di marula molto buona una semplice maschera da togliere con la spugnetta poi il mio compagno ha terminato anche lui il deodorante della botanica Deo Rollon a profumo di talco mi piace molto poi dentifricio menta dent protezione carie sbiancante floro e calcio denti più bianchi e forti 75 ml 12 mesi scadenza dall'apertura il colore era azzurrino ci è piaciuto lavava bene i denti lasciava l'alito fresco ottimo poi detergente intimo aspettate che ho esposto ok se no non ci sta più niente detergente intimo felce azzurra per pelli sensibili 250 ml 12 mesi profumo molto molto buono mi piace lava bene la zona intima anche adesso in questo periodo che sono incinta l'ho utilizzato non mi ha dato nessun problema ideale per pelli sensibili non contiene les les parabeni coloranti siliconi odor control della panieri lo sto utilizzando anche adesso però di un altro tipo e me lo porterò sicuro anche quando andrò all'ospedale cioè praticamente domani me lo sono messo in quei boccini piccolini poi terminato con il mio grande stupore il mio grande piacere questo trattamento tonificante all'argilla bianca dell'avon della linea kirskin professional 5 in 1 era un trattamento tonificante all'argilla bianca infatti era sotto qui era tutto bianco dovevate scuotere e poi l'argilla si mescolava con il prodotto che c'era dentro profumo gradevole mi pulivo il viso non non mi irritava 5 in 1 rimuoveva l'impurità minimizzava i pori controllava la pelle matificava la pelle e la bilanciava molto buono se lo trovo ancora in offerta lo riprendo anche se adesso sto utilizzando il tonico le rose sempre di avon perché ho intenzione di finire tutte le cose che ho prima di prendere qualcos'altro poi devo buttare questo spazzolino da viaggio perché ormai sono passati abbastanza mesi quindi via poi ultime due cosine e questo vi faccio vedere anche il sacchettino in cui tengo i prodotti finiti che è quello con pareggi sapete la mia passione poi ho terminato come make up questa cipria dell'avon color trend translucent 10 grammi 24 mesi molto buona mi opacizzava bene il viso non mi lasciava aloni colore perfetto adesso sto utilizzando quello della W7 che è un mix cioè a quattro colori che dovete mischiare insieme e poi anche se strano avevo ancora un assorbente e l'ho utilizzato quindi per perdite che sapete insomma così ne avevo ancora uno uno barra due e ho detto ma si avevo finito il salva slip e non avevo voglia di andarli a comprare ma si utilizziamo intanto vanno ben uguale gli ho terminati della Linus Seta Ultra e mi piacciono non mi irritano ottimi e niente questo era tutto il video questi erano tutti i prodotti finiti del mese di ottobre novembre dicembre spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto spollicciate se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video che non so cosa sarà quando sarà e se magari vi presenterò la bambina oppure no ciao